Siamo tornati in diretta perché anche oggi domenica nel primo pomeriggio il monte Marcora sta continuando a scaricare. Sono cadute delle enormi quantità ancora di materiale e si è levata una grande nuvola di polvere e di fumo come testimonia le immagini che adesso vi mostriamo. Ecco si può vedere che dal monte si sta staccando questa importante massa di polveri e di materiale mentre stiamo sentendo anche il rumore degli elicotteri che stanno sorvolando la zona si è staccato dallo stesso versante dallo stesso punto in cui ieri c'è stato il massiccio crollo eccolo qua infatti ed ecco la nuvola di fumo che si è generata in maniera molto copiosa e che si sta riversando lungo il canalone e lungo il ghiaione. La nuvola di fumo è davvero molto densa queste polveri stanno scendendo ad una velocità particolarmente impetuosa. Si stanno avvicinando anche alla zona della statale 51 anche se sono molto distanti dalla zona prettamente della strada. Questo è il versante appunto dove oggi domenica intorno alle ore 13 c'è stato questo ulteriore distacco ecco qua il punto esatto da dove si era staccato ieri lo sperone di roccia e ecco anche questa ulteriore cascata di detriti che da lì sta scendendo verso valle. Sembra una cascata d'acqua in realtà è una cascata di sassi e di materiale e questo è appunto la nuvola di fumo che si sta generando. Sono immagini davvero molto forti e molto impressionanti anche perché si riteneva che domenica non ci sarebbero stati ulteriori crolli invece così non è stato.